Inizierei Neri, come è stato riuscire a ritornare su un set insieme a Cristian e a Massimo? Beh, è stato bellissimo, non lo facevamo da 15 anni e come abbiamo cominciato a girare sembrava che fossero passati 15 minuti invece, quindi ci siamo subito ritrovati, non era cambiato niente, forse avevamo qualche anno di più, ma l'affiatamento è rimasto uguale ed ha anche il piacere di lavorare e questo ci ha molto aiutato anche perché noi abbiamo girato il film in un momento molto complicato in cui non c'era proprio il lockdown, ma c'era tutta una serie di regole che bisognavano seguire nella lavorazione e quindi su questo il fatto di essere affiatati ci ha consentito anche di mettere delle pezze dove abbiamo avuto chiaramente qualche problema, come era ovvio. Credo che abbiamo fatto una settantina di tamponi a testa, tanto per dirne una, però insomma io sono veramente molto contento di come è venuto il film e di esserci, rivedersi così come ci vediamo adesso tutti e tre vicini. Assolutamente, Cristian e Massimo, una domanda in coppia perché viaggiate in coppia in questo film, non solo come è stato rivedervi, ma che cosa ci dobbiamo aspettare secondo voi da questo film, quali gli umori, qual è l'atmosfera, quali le risate? Beh, a differenza di Amici come prima che era una commedia, questo è il classico film di Natale, grazie a nei riparenti e ai sceneggiatori che hanno ricostruito il film come quelli che facevamo anni fa, l'ultimo è stato Natale a Miami, questo è il nostro ventiseiesimo film tra me e Massimo ed è un film estremamente comico con due storie che si incrociano, una meno giovane interpretata appunto da me, Massimo, Lucia Mascino, la Minaccioni e Milena Vukotic, la grande Milena Vukotic e l'altro invece fatto da dei giovani veri, interpretato da Herbert Ballerina, Francesco Bruni e Fiammetta Cicogna e quindi si è tornati a fare il film che si faceva prima, quindi un film, una farsa molto comica, molto divertente e credo che in questo momento ce ne sia proprio bisogno, quindi non ci ferma neanche il Covid, visto che i cinema sono chiusi, noi arriviamo nelle case, nei salotti del nostro pubblico e con un biglietto solo il capofamiglia risparmia perché paga un biglietto ma se lo vede tutta la famiglia quindi conviene. Questo è vero, questo è vero. Massimo, per te com'è stata questa ennesima esperienza insieme a Neri e insieme a Cristian? Questa prima? No, questa ultima. Innesima. Ah, ultima esperienza. No, lei deve dire che tu ci mancherebbe, non mi mettere in mezzo. No, no, ma è una cosa straordinaria perché noi siamo più che amici, siamo fratelli perché abbiamo lavorato insieme tutti questi anni ma soprattutto ci siamo divertiti e abbiamo esattamente la stessa intenzione di quella di far sì che il pubblico si possa divertire con le nostre storie, con i nostri ruoli e così per tanti anni e credo che questo film sarà sicuramente, l'ho già detto ad un giornalista, che il film sarà un successo sicuramente. chiaramente se fosse andato sugli schermi saremmo stati forse tutti quanti più sereni, più felici, non tanto per la televisione perché la televisione è il metodo futuro che tutti i film andranno a finire così, è che non siamo abituati e noi siamo abituati No, certo, è che semplicemente vorrebbe dire che siamo ritornati a un vivere più sereno con il cinema aperto, capiamo quello che intendi. Mentre aspettiamo che arrivi Paola, diciamo, la moglie di Cristian, Cristian tu non è che proprio la cerchi Paola nel film naturalmente. Faccio subito una domanda a lei perché ho adorato, Lucia è il tuo personaggio così naif, si fa scivolare tutto sopra, non è importante, ha una mamma stupenda, la mamma che per certi aspetti tutti vorremmo, per altri naturalmente no, però insomma in realtà è molto dolce il tuo personaggio, come è stato interpretato questo film? Ma guarda, intanto è stato un piacere per me e anche quasi una sorpresa, diciamo, però ho seguito subito lo slancio della proposta di farlo, ho sentito un impulso subito positivo e quindi sono molto contenta di essere stata in questa avventura. Il personaggio era assolutamente anomalo per me, un personaggio così, come dire, soffice, così romantico, così benestante, positiva, appunto, al di là del personaggio che appunto era così scritto, così descritto, vorrei tanto in questa occasione vengo chiamata a parlare, quindi volevo ringraziare intanto Neri i parenti per la sua conduzione così affettuosa e così seria e poi volevo dire che, insomma, per me è stato assolutamente un sogno essere la figlia di Milena Vukotic, questo personaggio bizzarro con i capelli blu o rossi e sono contenta, insomma, mi sono assolutamente affidata all'affetto grande che ho per Christian e alla stima enorme. Volevo fare una domanda a chi è con noi, partendo magari da Herbert Ballerina, che sei, Herbert, sei terribile con i tuoi giovani influencer, sei abbastanza cinico, no? Insomma, rispecchi un lato di una società abbastanza contemporanea, possiamo dirlo. Ma infatti per me è stato un ruolo anche abbastanza diverso da quelli che faccio sempre, a parte che per la prima volta sono vestito benissimo, ho questi abiti incredibili, io di solito ho sempre degli stracci addosso e quindi sì, sono molto cattivo ed è stata una bella sfida, a parte il fatto poi di lavorare con Neri, Christian, Massimo, insomma, tutti gli altri, comunque per me è un sogno, perché comunque poi sono un po' cresciuto con i loro film e quindi queste due cose si sono abbinate, da una parte c'era questa cosa di ah, che bello, faccio il film di Natale, però nel film di Natale io addirittura sono quasi cattivo, quindi è, non lo so, è un salto nel vuoto. Poi devo dire una cosa che ho anche ricevuto un faccia da pirla da Massimo Boldi che quindi ha coronato un altro mio sogno. Questo vale mille punti, direi, Herbert, se posso permettermi. Lo metto subito nel curriculum. Decisamente, Fiammetta Cicogna e Francesco Bruni, siete stati appunto insomma un po' nel film naturalmente pilotati da Herbert, voi siete due influencer che forse insomma appaiono in un modo ma poi nella vita sono tutt'altro. Beh, io direi di sì, 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 nella vita sono abbastanza tutt'altro. Tra l'altro sono appena diventata mamma di due gemelline e durante le riprese del film mi hanno fatto divertire come una pazza. È tornata una seconda giovinezza, ho limonato con Francesco per tutto l'estate. Si può dire, possiamo dire? Io volevo ringraziare Neri per tutti questi baci messi nel film, perché in questi periodi mi ritengo fortunato. Bacio tampone, tampone, bacio tampone. Esatto, sarò stato contento anche Herbert allora dei baci, così era vera la vostra liaison. Sì, anche se io ovviamente non ne do mai uno come al solito, però vabbè. Francesco, com'è stato per te? Ti sei divertito? No, sì, io con Cristian e Massimo avevo già lavorato e mi sono trovato bene già due anni fa. Lavorare di nuovo con loro è stato un piacere. Neri ho avuto il piacere di lavorarci quest'anno per la prima volta, però è una persona con la quale mi sono trovato molto bene, molto spiritoso, ha un grandissimo senso dell'umorismo e con la quale spero di lavorare ancora tanto. Certo, certo. Una domanda per Denise, Denise Tantucci che ha un bellissimo nome. Denise, scherzi a parte, tu sei insomma quella che in un mondo di fake, in un mondo in cui siamo tutti diversi da quella che è la realtà, vuoi appunto far capire che ci sono tanti fake in giro e ci sono tanti falsi. Quindi hai questa missione e nessuno ti ferma, nemmeno Herbert ti riesce a fermarti. Esatto, esatto. La mia missione è smascherare Herbert e i suoi piani malvagi. E sì, devo dire che ho, diciamo, dei complici importanti e molto bravi con cui devo dire mi sono trovata molto bene e mi sono divertita tanto. Tra l'altro conoscevo Gianelli perché ho avuto il piacere di lavorarci qualche anno fa e tornare a lavorare con lui su un set del genere, in un periodo del genere è stato un regalo grandissimo perché sono state settimane molto divertenti e è stato bello. Sicuramente. Alessandro, Alessandro Bisegna, sei il figlio di Cristian, lo ami incondizionatamente insomma, nonostante Cristian sia sparito, non si faccia più né vedere né sentire da quattro anni, però tu giustamente vuoi bene al papà. Io sono molto destardo nel volerlo ritrovare. Farai di tutto, tanto che arrivi persino su Marte. Faccio un giro nello spazio, ce l'hai visto. Questa è una domanda che bisognerebbe fare alla Warner perché non è stata una nostra iniziativa. Io immagino che uscendo il film sulle piattaforme, ma è una mia assoluta illazione, e dovendo avere poi una vita futura di piattaforme, il fatto che non ci sia la parola a Natale può permettere anche ad agosto una messa in onda senza sembrare datato, ma è una mia illazione. Quindi, ma non c'è, qualcuno me lo può dire, anche dalla Warner, non so, ecco, non è stata insomma diciamo una diffida di De Laurentiis perché lui ha fatto tutti gli altri cinepanettoni col titolo Natale? Assolutamente no, tant'è vero che Massimo ha fatto Natale a... dove ha in... No, ha fatto Natale al Sud... Natale al Sud, Natale... Natale a quattro... Insomma, la parola... c'è stata una sentenza a un certo punto che ha stabilito che non è che Aurelio fosse il detentore della parola Natale per i film. Quindi si sarebbe potuto chiamare tranquillamente Natale. È difficile, ma è difficilissima. Ma noi siamo rimasti sempre quelli che eravamo, io e Massimo siamo un po' un cartone animato, quindi non è che è cambiato tanto il modo di... chiaramente siamo un pochino appesantiti, ci abbiamo qualche anno di più, io non sono più uno sciupa femmine, quindi sono... sì, sempre un mascalzore perché mi chiamo sinceri e di sincero non ho nulla perché sono un bugiardo, ma io di solito ripeto sempre che faccio ridere, si ride di più con il demonio che con San Francesco, quindi non è che io sia così nella vita, però ho sempre interpretato questi personaggi negativi. E quindi è cambiata qualche cosa, adagraficamente, ma insomma lo spirito è quello di una volta, tant'è che con Neri Parenti e Massimo abbiamo voluto rifare il film che facevamo anni fa, quindi un film comico, to cure, una farsa e che racconti questo paese, credo in maniera precisa. Tant'è che anni fa Beppe Cottafavi, della Bondatori, mi disse che per raccontare l'Italia bisognebbe rivedere i vostri film di Natale più che vedere i film autoriari che non hanno lasciato il segno. Ecco, noi con la farsa abbiamo potuto dire tante cose, anche cose tremende. Ma no, ma poi in fin dei conti abbiamo praticamente, siamo stati in linea con i tempi, con i personaggi, cercando di essere sempre attuali, di essere nel posto giusto, al momento giusto, trovando anche delle volte delle fantasie, film, prima, spasso nel tempo, prima, avanti, indietro e dopo. Adesso questo film è una grande idea, perché è veramente un'idea straordinaria, che portata sullo schermo, chiaramente, io lo trovo molto divertente, molto forte, ma soprattutto quest'idea è un'idea rivoluzionaria e molto bella. Come dicevo prima, noi vorremmo rifare tutti i nostri film, cominciando da... No, va, per altri 15 anni. No, volevo dire una cosa, dal punto di vista etico, sembra strano, rivolta a questi film, che quando noi abbiamo cominciato a pensare di farlo, eravamo in pieno lockdown, in piena pandemia, e quindi abbiamo detto, ci sarebbe, sembrava brutto dire facciamo Natale a New York, a Natale, cioè in questi posti che probabilmente avrebbero avuto dei morti, avrebbero avuto delle... e quindi abbiamo pensato, forse il fatto di Marte, oltre ad avere un'ambientazione curiosa, oltre a poter dare agio a dei gag particolari, i razzi, le cose, l'ossigeno, le tute, però questo fatto di fare un po' una destinazione favolistica, pensavamo che in quel momento fosse necessario. Allora, ho sempre recitato, sin da quando ero bambina, recite a scuola, teatro, del paesino, Anconetano dove sono cresciuta, perciò è venuta su un po' insieme a me, e in generale ho sempre pensato che variare nella vita fosse importante e soprattutto divertente. Il lavoro dell'attore è bellissimo perché ti permette di essere qualsiasi cosa, qualsiasi persona tu voglia, e la commedia è una cosa che mi ha sempre affascinata insieme ad essere una cosa in cui onestamente non mi sentivo troppo portata. Perciò quando qualche anno fa Neri mi ha dato questa occasione per calarmi in panni che non sentivo miei, ho scoperto un mondo che mi piaceva molto e che mi divertiva. Quindi quest'anno, quando mi ha chiamata, quest'estate, sono stata molto felice perché appunto, sì, come dicevi, vengo da film, diciamo, pesantoni, tra virgolette, e il periodo è stato quello che è stato per tutti, quindi è stata una grande gioia cimentarmi nella commedia. Per questo ringrazio Neri, ringrazio Christian e Massimo che sono stati dei grandissimi maestri e grazie per la domanda. Questa è stata un po', come si può chiamare, la commessa della indiana film, produzione della Warner, che è la distribuzione, che Massimo, Christian ed io abbiamo sposato al 100%, nel senso che l'idea di ritornare a fare un po' i film, ripeto, era 15 anni che non lavoravamo insieme, quindi con quella pasta lì era forte per tutti e tre. In più avevamo un soggetto che si prestava molto, perché tu avevi Boldi che diventa bambino che poi diventa grande, che poi ritorna bambino, Marte, cioè c'era un soggetto che in qualche maniera consentiva di poter rituffarsi in quella zona con, come diceva Christian prima, qualche anno di più, quindi avendo dovuto cassare un certo tipo di avventure di un certo tipo che non ce ne possiamo più permettere, però lo spirito era decisamente quello, delle gag, quando dicevano panettone era perché c'erano un po' tutto, c'erano un po' di parolacce, c'erano le gag, c'erano invece le scene buffe, poi c'erano le scene di recitazione, poi c'erano gli slapstick, cioè si è cercato di rifare tutto un po' questo, come dicevo prima, su Marte, per cercare di rendere tutto un po' più asettico rispetto al momento in cui stiamo vivendo. Bene, io sì, mi ci butterei subito dentro al buco nero se mi assicurassero di tornare bambino, perché no, ma penso tutti, io dico sempre che vorrei finire i miei giorni giocando col trenino elettrico, quindi mi inviti a nozze, magari ci fosse un buco nero dove uno torna bambino, certo io sono stato meno fortunato perché mio figlio è diventato Boldi, quindi non è insomma che c'è avuto questa grande cosa, mi è ritornato Boldi, pensa un po'. E per quanto riguarda l'altra domanda qual era, ossia volevi sapere che cosa è cambiato, no, non è cambiato nulla, non è cambiato nulla, ma no, su Marte ci sono gli stessi pregi, gli stessi difetti che ci sono sulla Terra, è tutto rimasto uguale, cambia qualche cosa, si gira con i razzi invece che con gli aerei e invece di essere serviti da una cameriera si è serviti dai droni, però insomma i pregi, i difetti sono quelli e quindi tutto rimane uguale, l'unica cosa che non rimane uguale è che noi Boldi e Cristian quest'anno neanche il Covid ci ha fermato perché arriviamo a Natale con il nostro telepanettone e entriamo dentro le case del nostro pubblico e quindi anche quest'anno faremo compagnia e speriamo di regalare un po' di risate e in questo momento che ce ne vuole, la più grande soddisfazione che uno che fa il nostro mestiere può avere. Lucia, come ti sei trovata ad essere la futura moglie di Cristian perché di fatto Cristian non ti sposa. Infatti stavo pensando che anch'io ho il mio bacio in questo film perché inizia con un bacio con Cristian con il quale appunto mi era capitato di lavorare cinque anni fa con un'opera prima di Caterina Carone e così ci eravamo conosciuti ed eravamo già una coppia possibile diciamo, una coppia che non aveva nessun reale contatto ma c'era un affetto che si sviluppava e quindi mi sono trovata benissimo perché Cristian è fantastico, è un uomo galante e anche estremamente accogliente ma mi sono trovata bene moltissimo anche con appunto come avevo detto prima con i riparenti che è lo stesso, mi sono sentita molto accolta in questo mondo che era un po' Marte per me appunto e vabbè la commedia, cioè il fatto dell'inganno uomo-donna, quello che mente, dice la bugia, l'altro che vorrebbe eccetera fa parte del meccanismo comico e ci stava ed è antico come il mondo e quindi non è che proprio racconterà che sempre gli uomini inganneranno le donne, non credo che sia questo il messaggio ma che qualcuno ingannerà qualcun altro sicuramente sì. Buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qui collegata con voi. Elena in realtà il marito l'ha perso e ormai diciamo è abbastanza contenta di questa situazione, il loro rapporto non andava bene quindi mi ha divertito interpretare una donna che in realtà non vuole rivedere il marito in genere, nelle commedie ci sono sempre delle donne abbandonate che magari un po' soffrono e vorrebbero essere di nuovo col compagno, invece lei si è emancipata, vuole soltanto il figlio che è tutto il suo mondo, insomma quindi è stato molto divertente. È la pura fantasia di un bambino che vuole, sogna l'impossibile, quello che potrebbe essere un suo sogno di una professione futura. Noi ci siamo divertiti soprattutto a pensare che eravamo proprio lì, in quel posto lì e in quel momento e io mi sono sentito in quel momento ancora un diciottenne. Per quanto riguarda Proietti disse così, gli disse voi siete stati dappertutto in India, in America, in Africa, in Egitto, ma quest'anno un docazza annate su Marte? Eh lo abbiamo accontentato e quindi i neri e gli sceneggiatori hanno scritto questo film, anche Giocaforza perché tu pensai che noi questo film lo dovevamo girare nel deserto marocchino, in Marocco con 45 gradi di caldo e io soffro molto il caldo, invece per il Covid Neri ha fatto ricostruire Marte dentro un teatro di posa di Cinecittà con dietro questo schermo gigantesco di 25 metri dove proiettavano le location del film, ma questo schermo deve stare al fresco, quindi c'era un'aria condizionata meravigliosa e per me è stata proprio una passeggiata di salute. Io ne spendo volentieri anche più di due, nel senso che io la mia carriera è quella di Milena praticamente sono andati a Braccetto per 40 anni, quindi prima come moglie di Fantozzi e poi una volta che Fantozzi non si è fatto più io ho continuato a chiamarla nei miei film per fare altre parti, quindi è un'attrice fantastica, meravigliosa, un'amica anche, con il quale ho condiviso anni e anni di professione e mi spiace che non sia qua con noi. E' chiaro che la mission che dicevo prima dell'Indiana e della Warner non era fate un film con le parolacce chiaramente, quindi la mission era il genere, il tipo genere e poi nella scrittura, poi tu lo saprai, a volte ci sono dei film in cui ci sono delle situazioni che ti consentono di spingere un po' più sull'acceleratore e l'autore non riesce a frenarsi, mentre invece ce ne sono altre che le puoi fare tranquillamente. Poi devo dire, noi abbiamo avuto sempre, credo ci sono state, non è che voglio rinnegare assolutamente i contenuti o quello che c'era, però avevamo la fortuna di avere degli attori che le dicevano con una tale abilità e con una tale leggerezza che passavano, qui ce ne è qualcuna, ma questi film qui le chiamano, non è che improvvisamente bisogna diventare tutti accusatori se c'è una parolaccia in più o una battuta, una battutaccia, l'importante è che faccia ridere quello che è terribile e quando tu fai la battutaccia non fa ridere, allora quello, però quello è un errore dell'autore, insomma. No, io volevo soltanto ringraziare intanto la mia moglie e la mia amante, la Miraccioni e la Mascino, col quale mi sono trovato non bene ma benissimo, è stato un ballare fantastico, meglio che di Ginger Rogers e Sid Cerris sono state per me, il loro Fred Astaire. E poi volevo ringraziare tutti i ragazzi giovani dell'altro episodio, a cominciare da Tenis Tantucci, a Fiammetta Cicogna, a Francesco Bruni, al grande Herbert Ballerina che hanno dato veramente una frustata di vitalità, di gioia a noi meno giovani e quindi questo film ha acquistato veramente tanto anche dalla loro presenza, quindi a nome mio e di Massimo vi ringraziamo di aver partecipato a questo film di Natale. Grazie a voi. Benissimo. Alla domanda che mi avete fatto. Allora, grazie a tutti, grazie ai colleghi, a tutte le domande. Assolutamente Cristian, lo sappiamo che non lo volevi dimenticare. Io sono stato benissimo fino a quando ho girato con Neri e Massimo questo film perché eravamo protetti, facevamo i tamponi due volte alla settimana, avevamo le mascherine. È finito il film e mi sono preso il Covid e ho una certa età. È passato pure il Covid e mia moglie siamo stati chiusi in camera a guardare un po' di film a leggere dei libri, ma insomma a tenere duro e ce la faremo, ne usciremo e torneremo tutti al cinema, al teatro e in per strada ad abbracciarci. Quindi state tranquilli, per quest'anno noi arriviamo in casa con il nostro Vacanze su Marte. Sul telepanettone. Però insomma agli italiani voglio dire di tenere duro perché passa, passa, ce la faremo e torneremo al cinematografo. Grazie.